Da quest'anno i cosiddetti assegni familiari hanno cambiato nome in assegno unico. La modifica però non è solo nominale ma anche sostanziale. Se prima l'importo per i figli a carico era destinato solo al lavoratore dipendente, adesso la platea dei fruitori si è allargata a tutti, ma secondo un concetto base, più hai meno prendi. L'assegno unico rispetto all'assegno familiare non spetta più solo ed esclusivamente al lavoratore dipendente, come era accaduto fino ad ora, ma spetta a tutti i nuclei familiari all'interno dei quali è presente un figlio minore oppure un figlio maggiorenne fino a 21 anni, purché sia studente, purché sia tirocinante o purché sia disoccupato e iscritto presso i centri per l'impiego della propria provincia o un figlio maggiorenne disabile. Pertanto spetterà sostanzialmente anche ai lavoratori disoccupati, spetterà anche ai lavoratori autonomi e alle partite IVA, purché presentino la dichiarazione ISEE. Come sappiamo il reddito ISEE è la risultante di tutta una serie di fattori, quindi non solo del reddito eventualmente da lavoro, ma una serie di fattori legati alle entrate e all'uscite di quel nucleo familiare. Pertanto è chiaro che la presenza di risparmi, la presenza di immobili, andranno a determinare un reddito ISEE che potrebbe essere elevato e pertanto andare ad abbassare l'importo dell'assegno unico. Ora, zero non esiste, nel senso perché comunque l'assegno unico potrebbe spettare anche per ISEE superiori a 40.000 euro con un importo minimo di 50 euro. Quindi partiamo da una possibilità di prendere 175 euro a figlio minore, gli importi vanno a scalare più alto è il reddito ISEE. In presenza di più figli, di più di tre figli, ovviamente saranno calcolate delle maggiorazioni. In presenza di figli disabili saranno calcolate delle maggiorazioni. In presenza addirittura di un genitore che ha meno di 21 anni saranno calcolate delle maggiorazioni. La domanda va presentata in due modalità. Innanzitutto va fatto il modello ISEE ed è possibile qui in CGL presentarlo tramite il nostro CAF. Una volta fatto il modello ISEE è possibile presentare la domanda di assegno unico tramite il patronato Inca telematicamente presso l'Inps. La domanda va presentata ogni anno, si presenta dal primo gennaio e per un periodo di riferimento che va dal primo marzo di quell'anno al 28 febbraio dell'anno successivo. Per non perdere gli arretrati è opportuno presentare la domanda entro non oltre il 30 giugno di ogni anno.